la mia è la bianca giusto la videocamera buona sera a tutti benvenuti a questa nuova puntata di sei in salute con questa puntata riniziamo la nuova edizione, la nuova stagione di sei in salute è la terza edizione da quando abbiamo iniziato questa nuova avventura e iniziamo subito questa sera con un argomento importante che spesso e volentieri ne sentiamo parlare magari poi nei suoi dettagli conosciamo poco mi sto riferendo alla malattia di Parkinson è una malattia, ahimè, è arrivata ribalta anche attraverso, se vogliamo, i media internazionali perché insomma ne sono poi affetti importanti personaggi uno su tutti, Michael J. Fox, il protagonista della saga di Ritorno al Futuro lo faremo questa sera con i nostri due ospiti che vado subito a presentare do il benvenuto al dottor Claudio Pacchetti direttore dell'unità operativa Malattia di Parkinson e disordine del movimento presso la Fondazione Istituto Neurologico Nazionale Mondino di Pavia benvenuto e buonasera a lei e a chi ci ascolta e do il benvenuto anche al dottor Domenico Servello neurochirurgo responsabile dell'equipe di neurochirurgia funzionale all'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano grazie e buonasera benvenuto allora cominciamo subito a parlare della malattia di Parkinson giustamente non si dice più morbo, esatto, ma si dice malattia di Parkinson iniziamo subito col neurologo, insomma la parte prettamente medica dell'aspetto ecco iniziamo subito col definire la malattia quali sono i segni, quali sono i sintomi, soprattutto com'è diffusa sul territorio italiano certo, la malattia di Parkinson è una malattia molto rappresentata nella popolazione generale bisogna immaginare che è una malattia che aumenta con l'aumentare dell'età quindi si dice una malattia età correlata per cui più si vive e più si incontra la probabilità di ammalare di una patologia neurodigenerativa come questa è vero però anche che non è solo una malattia per vecchi sono tanti giovani che sono colpiti da questa malattia lei ricordava Michael J. Fox sotto i 40 anni molti tanti tra i 40 e i 50 e i 50 e i 60 e poi voglio anche ricordare una malattia che è molto incidente, molto prevalente dopo i 65 anni, quindi la maggior parte dei casi è dopo i 65 anni 65 anni non è oggi un'età che si può considerare un'età geriatrica non si è giovani quindi è una malattia che crea enormi problemi diciamo di impatto sociale proprio perché investe persone molto giovani che hanno quindi progettualità hanno quindi relazioni, famiglie, lavoro e quindi è quell'età in cui ancora le cose devono essere chiare alle persone che sono malate ora dal punto di vista dei sintomi è una malattia che si caratterizza un po' lo riconoscono tutti, lo sanno tutti nel pensiero generale con il tremore in realtà non è solo il tremore che caratterizza questa malattia molti pazienti non tremano affatto diventano lenti sono lenti nel movimento hanno difficoltà a camminare a volte con il progredire della malattia difficoltà anche di postura la postura si può piegare quella che si chiama l'ateroflessione del tronco sindrome di Pisa ricordare la torre di Pisa e quindi sono dei sintomi questi la rigidità muscolare quella che proprio fa flettere quella posizione che prende il portiere e aspetta il calcio di rigore quella posizione un po' così semiflessa questo è un po' il disturbo motorio della malattia di Parkinson sul quale poi si vanno a dare delle medicine che sono funzionanti che funzionano però ci sono tantissimi sintomi premotori, non motori che caratterizzano questa malattia per esempio molti anni prima che la sintomatologia motoria cominci una persona può perdere l'olfatto l'iposmia è uno dei sintomi che possono precorrere i sintomi motori l'esordio della malattia motoria perché? perché il nervo olfattivo è un nervo dopaminergico diciamo la centralina di comando nel cervello che è quella che poi ammala funziona con questa sostanza chimica che è la dopamina il nervo olfattivo è un nervo dopaminergico e quindi le persone per anni possono perdere anche la capacità di sentire gli odori un altro sintomo premonitore anche questo che può anche esserci anni prima sono le cosiddette i disturbi comportamentali in sonno REM cioè in altre parole quando una persona sogna tranquilla nel letto i muscoli sono fermi e sogna i pazienti che ammaleranno di Parkinson o di malattie simili possono anni prima presentare questi disturbi per cui nel sonno si agitano parlano urlano a volte i movimenti sono così violenti da cogliere e picchiare chi sta vicino nel letto si chiamano REM behavior disorder in inglese insomma disturbi comportamentali in sonno REM e possono predire una malattia di Parkinson che verrà dopo un anno, due anni, cinque, dieci a volte anche trent'anni prima quindi è una condizione questa diciamo di sintomo che è molto importante riconoscere perché i pazienti possono essere seguiti nel tempo e quindi dare delle possibilità anche di cura anticipata ecco ma come viene fatta la diagnosi? la diagnosi è essenzialmente una diagnosi clinica cioè il clinico esperto in disordini del movimento o comunque anche un neurologo generalista nelle fasi iniziali di malattia può fare questa diagnosi è una diagnosi tutto sommato relativamente semplice per certi aspetti molto complessa per altri perché poi un Parkinsonismo che è caratterizzato da rigidità rallentamento del movimento e qualche volta a tremore lo troviamo, questa matrice sintomatologica in altre condizioni in altri Parkinsonismi che non sono la malattia di Parkinson che sono un po' peggio nella loro evoluzione e proprio perché le medicine lì non funzionano quindi la diagnosi è sempre clinica poi ci sono diciamo degli esami strumentali di supporto per esempio uno che ci permette di escludere altre condizioni di malattia è la cosiddetta scintigrafia cerebrale Datscan in sostanza guardiamo l'albero dopaminergico con dei radioisotobi che vengono iniettati si vede l'albero dopaminergico si colora il cervello se si colora poco vuol dire che c'è un problema lì proprio dove viene rilasciata la dopamina ecco io prima di passare alla terapia farmacologica sempre col dottor Pacchetti invece andrei dal dottor Servello per chiedergli si sente si è sentito parlare poi ci ha confermato che è una cosa tra virgolette vecchia la stimolazione cerebrale profonda di cosa si tratta? esatto appunto ci tenevo a fare questa prossima perché spesso e volentieri leggendo i giornali o vedendo in televisione dei servizi danno qualche volta l'impressione di una cosa nuova in realtà non è assolutamente una cosa nuova perché si fa da oltre 30 anni nel mondo oggi sono stati fatti oltre 150.000 casi quindi non è una sperimentazione non è una cosa sperimentale vediamo delle immagini che molto schematicamente ci fanno vedere un po' di cosa si tratta esatto in sostanza è una procedura mini invasiva che consiste nel posizionare in genere due elettrodi in determinate strutture all'interno del cervello in profondità del cervello è una metodica come ho detto mini invasiva quindi si fa attraverso un piccolo foro di trappano e in genere il paziente è sveglio perché deve collaborare questo per due motivi innanzitutto perché su alcuni sintomi come la rigidità e il tremore l'effetto della stimolazione immediata quindi se in sala operatoria do la corrente e il paziente smette di tremare o non è più rigido vuol dire che ho raggiunto il bersaglio l'altra situazione per cui è indispensabile la collaborazione del paziente è quella di scongiurare possibili effetti collaterali dovuti alla stimolazione quindi che ne so contrazioni motorie difficoltà a muovere gli occhi dei formicoli fastidiosi agli arti come dicevo prima oltre 30 anni quindi 150.000 pazienti fa sì che è una procedura sicura soprattutto ovviamente fatta in centri con esperienza è efficace perché l'efficacia dell'intervento è garantita perché devo dire che il Parkinson è l'unica patologia in cui si usa questa procedura appunto la stimolazione cerebrale che ha un test predittivo cosa vuol dire? che il paziente viene inviato al chirurgo solo se supera una determinata serie di test di valutazioni perché si è sicuri del risultato quindi non è che gli elettroi si mettono e poi si dice vediamo cosa succede si sa già che l'intervento funzionerà non solo ma si può anche predire cosa aspettarsi dalla stimolazione ecco una cosa volevo chiedere cosa succederà in realtà in sala operatoria e soprattutto cosa deve sapere il paziente prima lei giustamente diceva il terapiazio deve essere candidato a questa operazione chiamiamola operazione poi in realtà un'operazione non esatto un parolone operazione esatto si tratta di fare due tagliettini di 5-6 centimetri e due piccoli fori di trapano nel diametro di pochi millimetri è una procedura assolutamente indolore nel senso che ovviamente si ha un attimo di fastidio quando si fa l'anestesia locale ad esempio per il taglietto dopodiché tutte le procedure sul cervello sono indolori la posizione non è comodissima ma si cerca di migliorarla con cuscini e il problema è che il paziente deve stare immobile con la testa bloccata in questo anello per circa un paio d'ore perché devo dire noi insomma siamo tutto sommato abbastanza veloci quindi in genere in un paio d'ore si riesce a effettuare l'intera procedura la seconda parte è quella quindi del posizionamento degli elettrodi il pacemaker invece in genere si posiziona in una tasca sotto cutanea a livello del torace e quello è una procedura che si fa in anestesia generale perché ovviamente non occorre che il paziente collabori perfetto io adesso do la linea alla pubblicità per il nostro primo blocco ma tornate subito qui in studio con noi perché continueremo a parlare della malattia di Parkinson adesso mi ammazza perché ho parlato subito prima della no 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 scusa eh tanto che abbiamo fatto tutti un salto sulla sedia ovviamente poi c'era la domanda ho passato a lui la giostra anche un po' di problema bentornati in studio con sei in salute questa sera stiamo parlando della malattia di Parkinson torno al dottor Pacchetti abbiamo parlato col dottor Servello di terapia chirurgica parliamo invece di terapia farmacologica terapia farmacologica fondamentalmente è centrata sulla levodopa la levodopa è il medicina che è come dire precorre la dopamina cioè quindi il paziente assume l'evodopa entra nel sangue sangue entra nel cervello i neuroni dopaminergici di un piccolo centro che si chiama substanzia nigra catturano la levodopa la trasformano in dopamina e da lì quindi la dopamina entra nella parte come si dice nel compartimento post-sinaptico e comincia a funzionare in quel momento il paziente sta meglio trema di meno si muove più velocemente la rigidità diminuisce fino a scomparire quindi questa è la terapia diciamo più importante che abbiamo a disposizione per la malattia di Parkinson poi naturalmente esistono tutta una serie di altre terapie ancillari sono sigle diciamo sono inibitori delle COMT e quindi farmaci che possono aumentare l'azione della levodopa dopamina agonisti cioè farmaci che simulano l'azione della dopamina in modo diretto quindi possono integrare l'azione della levodopa inibitori delle monominossidasi che preservano la dopamina nello spazio sinaptico e quindi insomma aiutano anche essi l'azione della levodopa ma volevo dire una cosa cioè la stimolazione cerebrale profonda la DBS incontra la terapia con levodopa a un certo punto perché? perché la terapia con levodopa in tutti i pazienti prima o poi mediamente dopo 3-5 anni dà luogo a una serie di problemi e questi problemi sono movimenti involontari più o meno intensi e fasi cosiddette off cioè prendo il farmaco prendo la levodopa dopo mezz'ora sto bene per 2-3 ore 4 ore sto bene e poi a un certo punto sto male vado in off mi manca la medicina e quindi torno a tremare torno a essere lento torno a essere impacciato e avere una mobilità molto ridotta e quindi essere molto limitato in tutte le mie funzioni della giornata quando questa situazione si verifica occorre che il paziente venga come dire riferito mandato a centri esperti per una valutazione perché questa è e questo è il momento molto importante per decidere se quel paziente lì dovrà fare una procedura chirurgica quindi una procedura avanzata oppure attendere e vedere modificando la terapia se le cose potranno come dire andare avanti ancora per qualche tempo però quello che è cambiato nel corso di questi anni è proprio il posizionamento nella storia naturale della malattia della DBS mentre 30 anni fa quando è nata 25 anni fa quando abbiamo proprio un po' tutti cominciato a farla era il ponte alle spalle no? non ho più niente da fare e quindi cosa faccio? faccio la chirurgia perché ho provato di tutto il paziente sta così male che non posso l'ultima spiaggia il ponte alle spalle oggi non è più così sappiamo da lavori scientifici che si sono prodotti che fare una chirurgia precoce cambia la storia naturale del paziente ovviamente una chirurgia ben fatta naturalmente senza effetti collaterali gravi qualche volta può succedere poi magari il dottor Cervello ne parlerà ma se questo viene realizzato negli anni giusti nel momento giusto della malattia allora il paziente avrà una storia di evoluzione molto più contenuta molto più leggera dal punto di vista dei sintomi se invece il paziente arriva alla nostra osservazione dopo anni e anni di trattamento farmacologico diciamo così un po' estremo è poi difficile anche ottenere dei risultati e allora lì abbiamo un problema perché abbiamo l'aspettativa del paziente che è alta perché quando si fa un intervento si vuole guarire e noi già diciamo che non è che si guarisce dalla malattia facendo questo intervento però si può migliorare tantissimo ma io migliorerò tantissimo se questo intervento viene fatto prima cioè quando ancora il paziente ha una qualità di movimento di risposta al farmaco ottimale quando invece viene realizzato troppo tardi i risultati saranno così bassi quindi pazienti giovani che prima o poi nella loro storia naturale incontreranno questa necessità devono essere visti in centri esperti i pazienti relativamente giovani che cominciano a 50 anni prima o poi dovranno incontrare questa possibilità di poter fare una stimolazione cerebrale profonda o qualche altro tipo di procedura avanzata ma devono essere riferiti a centri esperti quindi quando un paziente prende l'evodopa e ha la necessità di prenderla per più di 4 volte al giorno deve essere visto da un medico esperto che possa poi decidere che cosa fare del suo futuro ecco allora io adesso mi rivolgo proprio al dottor Servello commentando quello che ha appena detto poi il dottor Pacchetti quindi anche i tempi dell'operazione esatto sono assolutamente d'accordo col dottor Pacchetti perché io ritengo che il tempo dell'intervento sia fondamentale e purtroppo ma ancora molti forse troppi neurologi considerano un po' la stimolazione come l'ultima spiaggia come ha ricordato dottor Pacchetti prima mentre va considerata invece come un'arma come un bagaglio terapeutico da considerare nelle fasi iniziali perché effettivamente ormai anche con il conforto della letteratura ci sono degli studi che sono fatti scientifici in cui si è dimostrata anche la superiorità della stimolazione rispetto alla migliore terapia medica comunque sicuramente bisogna fare pensare all'intervento non più di 4-5 anni dopo la diagnosi quindi soprattutto nei pazienti giovani quando c'è ancora un buon compenso cioè cercare di prevenire l'insorgenza degli effetti collaterali del farmaco sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto dal dottor Pacchetti dottor Pacchetti parliamo un po' di cause esiste una predisposizione genetica alla malattia di Parkinson? sì esistono allora diciamo così in generale quanto più si è giovani e quanto più una causa genetica è importante sotto i 40 anni è molto più probabile trovare delle mutazioni genetiche che possono causare il parkinsonismo poi mano a mano che l'età sale abbiamo meno probabilità di trovare dei geni completamente causativi cioè ho un difetto genetico non ho una proteina e di conseguenza mi viene quella malattia ci sono dei fattori di predisposizione sempre di tipo genetico ci sono fattori di predisposizione di tipo genetico come la mutazione in GBA che oggi sono molto studiata e le persone specie dai 40 ai 50 anni possono incontrare questo tipo di mutazione quindi sottoporsi a uno screening genetico è molto importante per i pazienti giovani per i pazienti che insomma comunque cominciano un po' a tutte le età ripeto comunque tanto più si è giovani tanto è più probabile avere dei fattori di predisposizione per la malattia di parkinson che esordisce dopo i 65 70 anni e oltre beh è chiaro che come tutte le malattie ci sono dei fattori poligenici delle fragilità poligeniche e poi un riscontro di fattori ambientali per esempio nella griglia di fattori che possono come dire predisporre o favorire la malattia di parkinson sicuramente l'inquinamento ambientale soprattutto l'uso di fitofarmaci e pesticidi è consolidato in letteratura cioè quindi tutte le aree esposte ad alto consumo di fitofarmaci quindi di esposizione a fitofarmaci e pesticidi lì abbiamo una incidenza prevalenza quindi nuovi casi hanno e globali durante l'anno di pazienti con malattie di parkinson molto più elevata le ricordo per esempio io lavoro nella provincia di Pavia abbiamo insomma dei dati che sono insomma anche in letteratura dove sicuramente le zone più esposte per esempio della Lomellina o dell'oltrepò pavese sono più incidenti i pazienti sono più incidenti e più come dire più numerosi ecco quindi questo è un dato di fatto poi direi altri fattori di predisposizione ambientale altri fattori di predisposizione più che altro in questo caso li andiamo a leggere un po' più come dei fattori che invece limitano l'insorgenza della malattia di parkinson abbiamo per esempio il consumo di caffè quindi il caffè è potenzialmente un fattore che riduce l'incidenza di malattie di parkinson perché non è noto il fatto è che i pazienti con malattie di parkinson difficilmente sono dei consumatori di caffè paradossalmente anche il fumo chi fuma ha meno facilità di avere malattie di parkinson sono pochissimi i pazienti con malattie di parkinson che sono fumatori o che lo sono stati ecco poi ci sono mi correga se sbaglio i traumi ovviamente molti pensano per esempio o si pensa a parkinson anche oltre a michael j fox viene in mente muhammed ali cassius clay certo i traumi sono un fattore da considerare diciamo che un trauma ripetuto come nel caso di cassius clay è un fattore che dà luogo a una sorta di parkinsonismo non esattamente una malattia di parkinson perché in questo caso il trauma ha prodotto delle lesioni cerebrali anche piccolissime ma che accumulando si hanno dato luogo a un fenomeno come dire di degenerazione di quelle parti del cervello che poi sono quelle che fanno venire appunto la rigidità il rallentamento motorio eccetera che i traumi unici magari anche importanti possano essere causativi nel tempo dello sviluppo di una malattia di parkinson è molto discusso in letteratura ma non ci sono delle evidenze così concrete ok perfetto io adesso do la linea al secondo blocco di pubblicità ma tornate qui subito in studio a noi perché continueremo a parlare della malattia di parkinson mi sta mandando via la voce ok adesso inizio subito col dottor cervello vediamo invece le tecniche più innovative e soprattutto magari diciamo della ricerca poi cerco di fare un po' ping pong tra l'uno e l'altro ok non mi so portato l'acqua porca miseria la porto sempre mi so scusate sai cos'è che c'ho il raspito in gola gli chiedi a scusa a Carlo se mi porta una bottiglietta d'acqua scusate ma mi sta andando via la voce in genere me la porto sempre mi fa sto scherzo un po' che parlo l'ultimo stacchetto gli ultimi 12 minuti si 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 poi abbiamo finito ma comunque mi sembra che sta andando bene io poi vedo le le immagini da lì è una bella puntata questa perché insomma dovrebbe si dire qualcosa però magari su gli aspetti social e sanitario e perché poi dopo c'è infatti c'è proprio la domanda che magari è una cosa che è lì che volevo fare il ping pong però giustamente piacerebbe avere sia il parere del neurologo ma anche quello del neurochirurgo si si grazie scusa ma lo porto sempre stavolta mi sono scordato io la mattina presto cioè la mattina quando mi sveglio mi sveglio presto perché accompagno io sempre ma da sempre cioè comincio a starnutire vado avanti tipo 15 starnuti ma è normale per me il problema è quando esci con cui ti va a starnutire la gente che ti guarda in metropolitana mi ricordo che avevo fatto il vuoto intorno e Carlo dov'è che è andato a prenderla qua San Pellegrino è andato a San Pellegrino a prenderla parli con tutti e due adesso eh? parli con tutti e due cioè di coinvolgi tutti e due eh sì sì no non era solo per la finestra tipo una roba del genere ah no 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 faccio sempre una domanda a testa no no tira forte grazie eh grazie infinite poi la piazzo lì dietro scusate ma devo bere se no mettiamola qua dietro ok va meglio scusate ancora ma ok ci siamo ok bentornati con sé in salute questa sera stiamo parlando di malattia di Parkinson torniamo al neurochirurgo ci piacerebbe magari sapere qualcosa circa le tecnologie più innovative abbiamo visto la stimolazione cerebrale profonda però sicuramente la ricerca e la biotecnologia sta lavorando in questo senso sì sicuramente ancorché secondo me nelle tecnologie più invasive c'è un po' di meno fermento rispetto alla ricerca in farmacologia negli anni negli ultimi anni ci sono state delle ricerche partite anche da presupposti molto interessanti che purtroppo non hanno mantenuto diciamo le aspettative che avevano promesso mi riferisco ad esempio in particolare all'impiego di cellule staminali piuttosto che al rilascio di farmaci direttamente nel mencefalo tramite le nanotecnologie oggi come oggi l'unica novità esistente è l'ultrasuono cioè la lesione controllata alla risonanza fatta con gli ultrasuoni che è una tecnologia che è nata in realtà per il tremore essenziale quindi non per il parkinson ma che adesso si incomincia ad utilizzare nel parkinson è una cosa ancora assolutamente sperimentale bisogna vedere se effettivamente si potrà usare nel parkinson e se sarà efficace nel parkinson io ritengo che forse la ricerca sarebbe da fare attualmente ancora sulla stimolazione cerebrale perché io ritengo ancora il trattamento diciamo più fisiologico considerando che il cervello funziona a elettricità e a neurotrasmettitori le ditte produttrici di questi device secondo me dovrebbero impegnarsi un po' di più perché di questi tempi ad esempio lavorare sulla miniaturizzazione quindi dei dispositivi sempre più piccoli cercare di eliminare i fili, i cavi, il pacemaker lavorare sulla durata sì adesso ci sono le batterie ricaricabili comunque diciamo si potrebbe fare di meglio per quella che in questo momento secondo me rimane ancora la più efficace delle tecniche invasive ecco volevo fare un'altra domanda invece sulla stimolazione cerebrale profonda qual è la vera efficacia nella sua esperienza clinica i risultati che ha avuto sono veramente ottimi? ma sono straordinari ovviamente quando c'è l'indicazione allora il risultato in realtà della stimolazione la stimolazione è un lavoro di equip perché non è solo il neurochirurgo che deve mettere ma è fondamentale anche il neurologo cioè l'apporto neurologo come diceva prima esatto perché il neurochirurgo è un po' il manovale che posiziona gli elettrodi ovviamente il compito del neurochirurgo è quello di essere precisi perché questa è una chirurgia di estrema precisione è sufficiente uno scarto anche millimetrico cioè due millimetri di posizionamento dell'elettrodo possono inficiare la terapia e quindi questo è il ruolo del neurochirurgo il neurologo deve poi gestire il paziente allora se il neurologo non ha l'esperienza adesso questi device sono estremamente sofisticati cioè ci sono decine e decine di possibilità di gestione, di controllo, di modificazione dei parametri e in questa è indispensabile l'esperienza del neurologo perché un neurologo che non è in grado di controllare di gestire i parametri può inficiare tutto il io posso aver messo gli elettrodi più belli del mondo ma se il neurologo non è capace a gestire il device si perde tutta l'efficacia del trattamento potrei aggiungere su queste parole finali del dottor Servello che effettivamente l'expertise che si richiede al neurologo per la gestione di questi pazienti è veramente enorme perché a quel punto il paziente deve essere riequilibrato dal punto di vista della terapia elettrica quindi la stimolazione cerebrale profonda e della terapia farmacologica cosa che non è affatto semplice cosa che anche nella richiesta del paziente quando starò al meglio occorre rispondere ci vorranno mesi perché è nel corso dei mesi che si otterrà quell'equilibrio definitivo a volte a volte invece da riverificare a distanza di tempo tra la terapia farmacologica che comunque in ogni caso diminuisce questo è molto importante e la terapia elettrica quindi di solito quando noi usiamo il target del nucleo subtalamico che è questa piccola parte che il dottor Servello va a impiantare con l'elettrodo ed è un target di 7 mm allora a quel punto abbiamo il massimo del risultato sulla terapia farmacologica la possiamo calare su altri target come il globo pallido interno invece dobbiamo stare mediamente ancora alti con la terapia ma abbiamo un grandissimo risultato sui movimenti involontari che azzerriamo completamente ecco questo gioco richiede tantissima esperienza volevo farle due domande innanzitutto prima abbiamo parlato di cauda giustamente è possibile fare allora della prevenzione? questo è una bellissima domanda perché di fatto il concetto di prevenzione in una malattia neurodigenerativa non è così automatico come per esempio nelle malattie cerebrovascolari sappiamo quali sono i fattori di rischio non fumare abbassa i grassi il colesterolo una vita sana lo stile di vita eccetera tutto questo costrutto questa idea di prevenzione nella malattia di Parkinson non c'è perché è una malattia neurodigenerativa secondo alcuni epidemiologi oggi occorrerebbe più che insistere su molecole presumibilmente capaci molecole quindi farmaci presumibilmente capaci di fermare la malattia di guardare all'ambiente quello che dicevo poc'anzi e di cercare di ridurre quei fattori di rischio che possono essere ragionevolmente controllati se ci fosse una buona volontà quindi questo è quello che al momento possiamo dire poi come dicevo tutti quei sintomi non motori che precorrono la malattia sono molto importanti da attenzionare screening genetico proprio perché noi riusciamo in questo modo a verificare con la persona l'eventuale momento in cui la malattia comincerà e a quel punto gestire da subito con i farmaci quindi cercando un percorso ottimale di terapia ecco una domanda che poi dopo gireremo anche mi piacerebbe sapere anche insomma il parere anche del neurochirurgo ma si riesce a fare una vita pressoché normale con il morbo di Parkinson? Allora sì è scappato morbo sì sì e purtroppo è un po' nel sì esatto nel via generale no è assolutamente sì perché la qualità di vita di una persona che ha la malattia di Parkinson per molti molti anni e in particolare quando la sua storia naturale quando ci sono le difficoltà che ricordavo prima in corso di terapia con l'evodopa vengono mitigate dalla stimolazione cerebrale profonda la sua qualità di vita rimane molto alta e quindi anche le sue aspettative di vita viceversa è chiaro che i problemi vanno via via a aumentare con le fasi off che si generano per effetto della terapia per effetto dell'evoluzione della malattia più che per effetto della terapia con l'evodopa è chiaro che le difficoltà arrivano però il messaggio deve essere confortante perché per i pazienti siano essi giovani che più anziani le terapie che abbiamo a disposizione quelle che arriveranno chissà ancora meglio ma già quelle che abbiamo a disposizione fanno la differenza e in più abbiamo anche la chirurgia funzionale ecco invece il parere del neurochirurgo sono assolutamente d'accordo il paziente è stato sottoposto all'impianto di stimolazione fa una vita assolutamente normale può fare assolutamente tutto e le dirò di più che la maggior parte dei pazienti la prima cosa che dicono avrei dovuto farlo prima ecco un'ultimissima domanda che siamo in chiusura di trasmissione le persone che sono intorno attorno a un malato di Parkinson familiari conviventi gli stessi amici o colleghi come possono essere d'aiuto alle persone? scattano un po' questi meccanismi quello che si considera il portatore di cura il caregiver a volte mette un po' fatica a cogliere che esiste un problema di malattia perché comunque se è sua moglie, marito è una persona con cui tu scambi una relazione emotiva-affettiva appunto dopodiché la malattia va in secondo piano quando si entra un po' invece nell'idea che effettivamente c'è anche un problema un problema di salute motoria soprattutto almeno all'inizio ma anche con un po' di sintomi non motori come abbiamo detto allora scattano un po' le difficoltà di essere come dire sempre comprensivi attorno all'esigenza del paziente e quindi occorrono un'educazione occorrono un'educazione alla gestione dei rapporti relazionali delle relazioni di cosa fare con il paziente con malattie di Parkinson non sicuramente nelle fasi iniziali diciamo per i primi 5-8 anni assolutamente no ma poi quando le cose possono essere un poco più complicate occorre davvero che il caregiver il familiare abbia una sua educazione abbia un suo supporto sia in termini di risorse perché così magari è anche più incentivato a essere dentro questo tipo di soluzione avere una soluzione del problema e quindi magari essere meno sofferente dentro questo tipo di relazione che è comunque impegnativa lo stesso presuppongo anche sul piano neurochirurgo insomma le persone che sono vicine devono anche voglio dire sostenere la persona che poi magari si deve sottoporre a questa tecnica assolutamente perché devo dire che anche lì alle volte vedi il caregiver cioè il compagno la compagna possono passare o da una assoluta avversione all'intervento per cui mettono anche in difficoltà il paziente stesso ma dovrebbero cercare invece di aiutarlo ovviamente certo benissimo siamo arrivati in chiusura di trasmissione abbiamo affrontato quella che è la malattia di Parkinson abbiamo trasmesso ai nostri telespettatori un po' di utili informazioni io ringrazio i nostri ospiti ringrazio il dottor Claudio Pacchetti ripeto direttore unità operativa malattia di Parkinson e disordini del movimento presso la fondazione istituto neurologico nazionale mondino di Pavia grazie ancora e ringrazio il dottor Domenico Servello neurochirurgo responsabile dell'equip di neurochirurgia funzionale all'IRCCS istituto ortopedico Galeazzi di Milano grazie ancora io a questo punto vi do appuntamento alla prossima puntata ringrazio la regia ringrazio l'emittente vi ricordo di visitare i nostri siti www.informativi.it il sito della trasmissione soprattutto il nostro sito di informazione medico-scientifica tecnomedicina.it come sempre non vi resta che augurarvi a tutti buona salute grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti